Essere cristiano è facile, facciate diventare giacolico è facile, sposarsi diventarsi caceroi ognuno di qualsiasi cosa che è più facile, ma non è difficile, ridere quello che si chiede, è qui il problema. Come abbiamo sempre fatto nella prima lettura, ora siamo fatta. Non adorare la legge, anche inoltre, non adorare quello che è stato scritto da Dio. Erano tanti le leggi, ma che è tutto, ma che è tutto, solo un dolore. Amarillo sopra di oggi a oggi, il fratello come a te stesso. Solo questo si resume la legge, per vivere questa legge del mondo, è come nel saluto. Colomio che camminano senza polpa, pratica una ricetta. Chi è qui senza polpa? Chi camminano come la ricetta per la terra? Se guardiamo la nostra vita, in nostri reti, nessuno è capace, e essere giusto, camminare senza polpa. Tutti noi abbiamo sempre una polpa, ma c'è l'acqua che amanda di essere santi, come nel palco nostro. La vacanza è successo in cui risultate la mente. Siamo capace di essere santi, basta amarci, uno agli altri. E questo finisce sempre. Fratelli, miei, grazie a me, ogni buon regalo, ogni buono perfetto, vengono dall'altro. Io andando al solito, io andando rotto, io regalo rotto, non mi vengono, vengono nell'aglizia. Vengono tutte queste cose che abbiamo sentito, la persona, il dentro dell'uomo. Io e' capace di vivere una relazione, di trasparenza, dell'esigenza, di amicizia. La stessa cosa, quando si parla di aiuto internazionale di un paese alatto, non si fanno un favore. I paesi hanno debiti, dei paesi ricchi, dove c'è il polvergato, dove c'è l'aiuto internazionale. E' questo che va parlando a fare, secondo me, se ho citato, o re i sociali, non guardare da sempre. La politica, la poligna, lo sviluppo. Se non sono in grado di vedere la vita e la prova, saremo grado a che a fare una crise mondiale. o una crisi, o una malaviglia, che non si rispetta la linea razza umana. Siamo numeri, numeri, vita umana. E le leggi, non c'entra niente, o la logica umana. In questo senso, il male, lo ricordiamo. Impurità. Punti, omicidius, ad oltre, alberità, malvagità, inganno, distorschezza, invidia, calunnia, superiore, disantesa, tutte queste cose vengono fuori dall'interno, e rendono impurruo, e rendono impurruo la umanità. Perchino ora, non siamo piacere di capire la chiamata di l'amore. Siamo amati fratelli di tutti. Purtroppo, fratelli, malaviglia e diversa, siamo datati con i nostri animali, perché manca capire il messaggio di tutti. Ognuno ci pensa. Oggi è sempre sia lodato.